Qualcuno si sarà preoccupando perché parliamo di Satana, ma vedete parlare di Satana anche se oggi potrebbe sembrare anacronistico oppure cosa del Medioevo, fa parte del nostro cammino di fede. Certamente noi non vogliamo vedere Satana in ogni cosa come tanti purtroppo vedono, noi vogliamo vedere soprattutto Gesù, credere alla sua forza di salvezza, alla sua potenza, credere che lui ci può cambiare il cuore, però l'azione di Satana continua nel mondo, continua nella mia vita, continua nella vita di ciascuno di noi. E il rischio più grande è proprio quello di non considerare questa azione, di credersi immuni dalle tentazioni. Di Satana se ne parla nel Vangelo e da Satana ci mette in guardia Gesù, come Maria e come molti altri santi. Ma noi siamo chiamati a quello che i maestri dello Spirito chiamano il discernimento, cioè la lotta nella nostra vita, che è una lotta spirituale certamente, avviene anche con il discernimento. Il discernimento che non è un fatto magico dove io vado, vedo, no, il discernimento è qualcosa che deve agire insieme ad altri elementi, come la preghiera, come la riflessione sulla parola di Dio, come la carità, la vita dei sacramenti. Tutto questo mi aiuta a discernere nella mia vita quando Satana vuole ingannarmi, quando Satana vuole agire. Stiamo facendo questo discorso all'interno di quella logica di amare il mondo, ma come Gesù vuole che noi amiamo il mondo. Di amare il mondo essendo liberi dalle schiavitù di questo mondo, essendo liberi dalla logica di Satana. E se io non conosco la logica di Dio, non posso conoscere la logica di Dio stesso e altrettanto non posso nemmeno conoscere la logica di Satana. E allora c'è proprio questa arte del discernimento. Ci sono tanti testi che potete acquistare, oppure ci sono testi anche che trovate su internet, oppure parlatene con i vostri direttori e le vostre guide spirituali. Ecco, il direttore spirituale, la guida spirituale è uno strumento per discernere nella propria vita la presenza di Dio e anche la presenza e le tentazioni del male. E questo è importante, perché non si può discernere la presenza di Dio, la volontà di Dio, senza lasciarsi guidare, senza aprire il cuore a una mediazione umana, come può essere il confessore, piuttosto che il direttore spirituale, piuttosto che la guida spirituale. Di questo tempo fa abbiamo fatto un bel percorso insieme, un bel cammino insieme, paragonando spesso l'azione pedagogica, l'azione di direzione spirituale, vissuta da Padre Pio. Perché poi uno degli aspetti che andrebbe meglio e ancora ulteriormente focalizzato proprio sulla vita e sul ministerio di Padre Pio è proprio quello del suo essere stato, guida di anime e direttore spirituale di tante anime. Allora, per chiudere oggi, trovatevi un bel direttore, un bravo direttore, se non ce l'avete, e una brava guida spirituale per discendere la presenza di Dio nella mia, nella tua vita, e anche per discendere la presenza dell'azione del male. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!